Oggi possiamo guardare la Madonna piccolina, santa, senza peccato, pura, prescelta, per diventare la Madre di Dio. E anche guardare questa storia che è dietro, tanto lunga di secoli. E domandarci, come cammino io la mia storia? Lascio che Dio cammine con me? Lascio che Lui cammini con me? O voglio camminare da solo? Lascio che Lui mi carezze, mi aiuti, mi perdoni, mi porti avanti per arrivare all'incontro con Gesù Cristo. Questo sarà il fine del nostro cammino, incontrarci con il Signore. Questa domanda ci farà bene oggi. Lascio che Dio abbia pazienza con me. E così, guardando questa storia grande e anche questo piccolo paese, possiamo lodare il Signore e chiedere umilmente che ci doni la pace, quella pace del cuore che soltanto Lui ci può dare, che soltanto ci dà quando noi lasciamo a Lui camminare con noi.